31 gennaio Adoria è sinonimo di Festa Don Bosco, ricorrenza che ormai da circa 30 anni vede protagonista l'associazione Sing, onlus locale dedicata al presbitero. Tanti gli ospiti di giornata, sia fisici che virtuali, dalla comicità degli scemi freddi al fascino di Gaia Gentile, passando soprattutto per i racconti e gli aneddoti del dottor Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli. È stato molto bello, io ringrazio dell'invito perché mi ha dato la possibilità di conoscere una realtà ormai rara, perché gli oratori, questo tipo di accoglienza dei giovani, dei ragazzi è sempre più rara, mi ricorda la mia infanzia e poi io sono molto legato alla storia di Don Bosco e ho rivisto la sua opera, il suo messaggio, la sua semina in Africa, soprattutto in Zimbabwe e in Zambia, dove ho visto tante realtà dedicate a Don Bosco e fatte dalle associazioni Don Bosco. Gratteri ha raccontato le proprie esperienze professionali e di vita ad una platea variegata in termini anagrafici, presenti infatti tanti estimatori del procuratore scortato fino alla propria macchina dall'affetto di chi l'ha raggiunto proprio a Doria e dalle richieste di selfie e autografi. Io ho visto tanto entusiasmo e tanto interesse da parte dei ragazzi e quindi è stata per me una bellissima serata, pomeriggio, serata anche se faticosa perché devo fare altre 5 ore di macchina, però ne valeva la pena, grazie.